hai ansia la prima app che ti permette di gestire comodamente da casa tua la tua ansia ma tu come fai a sapere queste cose chi sei veramente io sono ansia come funziona questa cosa il meccanismo è semplice semplicissimo sfruttiamola sarà lei stessa a suggerirci delle situazioni all'interno delle quali io ti porterò per dimostrarvi il tuo effettivo bisogno d'azzo mi è venuta un'ideona no io non voglio far giocciare con te no no scusa devi solo fare finta di essere gay per entrare in disco ma che sei scemo non lo voglio più ma chi è? chi è che ti manda i messaggi a st'ora di notte? ma io faccio la pazza scherzata io mi faccio sentita tutti gli uomini dalla porta a faccia no e ci ho messo il testo troppo troppo testo sai com'è in quei giorni lì? ma quali l'ho a vedere? pronto signora? socio alberto marchi signora un attimo di delizia la patata che ti sfissia signora? signora che la disturbo? no? allora un attimo che la metto in attesa brazio para papà va con il trenino signora va con il trenino para papà perché sto lavoro è basato sui fai fai quello che prendi ci avrebbe convenienza dai pronto signora? so sempre io wow signora almeno con il trenino sei infastidito un poco un poco un poco perché sono in barizze adesso signora? perché è in barizze? poco poco è in barizze ma signora allora mi dica lei quando la posso infastidire un poco? eh quando mangia? a che ora mangia signora Luna? la chiama come signora vaffangulo? grazie signora grazie credo che per me non ci sia bisogno di presentazione no? mi a nama e umma bi al rishid muhammad ali ben al maktum zahir faer zahir maher davi ya kharrabi ya ya ghani ya ghani ya ghani ya ghani la muanuzzi ben lugam muarami mi ha chiamato il nome del mio primo antenato che sarebbe? Sergio Io non ho solo detto che lei è un sceico No! Ma infatti ma chi mi ha detto? No! Ma chi è medico? No! Io sono più ricco di tutti gli sceicchi e infatti sono sceicchi Sanno pure loro, ho visto? E io ho proprio i soldi che esce dal bucci dal culo io! Ma che faccio? Ma che stai impazzendo tutte le foto? Delle calze, se mi fa venire da parlare Se so allo scientifico mi porto la calcolatrice se so all'artistico mi porto i pennelli io che so a scuola di Instagram mi porto il telefono E se vai al ginnasio? Mi porto la tuta E al linguistico? Mi porto la lingua E all'agrario? Oh stoppati! Mamma mia sta diventando un vizio e allora è proprio vero! Che? Che il lup perde il pelo ma non il vizio Guarda che chi influencer può apparire un po' deve soffrire Hashtag Fedez Hashtag Oscar Wilde ignorante Hashtag Oscar Wilde con la mia fedezza Oh oh oh! Io sono Gesù mi caputa Stigma donna una pizza in faccia a te dalla rosa! Dio delle città E dell'immensità Papà dice Che aspetti? Hai ansia? Tutta addosso a te!